Vedo l'ora che arrivi lunedì pomeriggio, così almeno qua la chiudete al primo turno, ovviamente. I ballottaggi lasciateli a qualcun altro, a Treviso la partita si chiude al primo turno. Mi raccomando, conto su di voi per questo, da segretario della Lega. Più che una previsione, quella di Matteo Salvini sembra una certezza. Certo, a tre giorni dal voto non mancano le variabili. Spero che voti tanta gente, perché magari due gocce d'acqua, la dunata degli Alpini a Udine, magari qualcuno pensa, Conti ha già vinto, la Lega ha già vinto, non serve che io vada a votare. Ecco, il voto è un diritto, non dico un dovere. C'è poi una partita nella partita, quella tutta interna al centro-destra, con la Lega che vuole ritornare, primo partito in città, superando Fratelli d'Italia. Poi l'ultima elezione che c'è stata è quella in Firuli-Venezia-Giulia, poche settimane fa, dove Massimiliano Federica ha stravinto e la Lega è stata scelta come primo partito. Quindi conto che anche a Treviso possa finire nella stessa maniera. E da Treviso il vicepremier detta di fatto la linea politica di giornata, inevitabile partire dalle tensioni sui migranti con Francia e Spagna. Da autonomista ritengo che ognuno si debba fare gli affari suoi. Lezioni dai francesi non ne prendo, visto che respingono i bambini di notte nei boschi al confine con Ventimiglia. Anzi, chiedo ai francesi di rispettare gli impegni presi sulla TAV. Ma i dossier sul tavolo sono numerosi, compreso quello del caro affitti, degli studenti fuorisede, dell'emergenza abitativa. Fare un nuovo piano casa di edilizia convenzionata, a prezzi accessibili soprattutto per chi guadagna cifre che non permettono di comprare o di affittare, è uno dei miei obiettivi. Sostanzioso inoltre il capitolo delle riforme tra presidenzialismo e soprattutto autonomia. ricostruzioni di Palazzo raccontano di una Premier Meloni che vorrebbe rinviarla a dopo le europee. Fantasie di qualche giornale. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti i sostenitori anche delle altre riforme. A Palazzo Rinaldi, Salvini, blinda il quarto lotto della tangenziale, garantisce la messa a terra del PNRR, parla di sicurezza stradale incontrando l'associazione Alba. A sostegno di Mario Conte, la Lega di oggi e di ieri, Gian Paolo Gobbo scalda gli animi. Noi non ci nascondiamo dietro i cosiddetti sindaci civici o altre situazioni. Noi siamo l'Ega.